Dal punto di vista del significante, qual è il rapporto di Montale con la tradizione lirica italiana? La poesia è composta da quattro strofe, tre quartine e una strofa di cinque versi. I versi, che con qualche eccezione sono indecasillabi, sono uniti da due schemi di rime, baciata nella prima e nella terza quartina, alternata nella seconda con rima ipermetra o imperfetta tra veccia e sintreccia no. La sillaba no rompe la regolarità dello schema della rima alternata cd cd. Fin qui, a parte la rima imperfetta veccia intrecciano nella seconda strofa, il rispetto della tradizione è pressoché totale. Quartine, indecasillabi, schema di rime. È nella quinta strofa che si concentrano le anomalie. In primis non è una quartina come le altre, ma una strofa composta di cinque versi. In secondo luogo, lo schema della rima baciata è spezzato al verso 15 dalla finale in gliò che interrompe la catena, o meglio la cantilena, delle rime baciate in glià, abbaglia, meraviglia, muraglia, bottiglia. Infine, l'ultimo verso non è un indecasillabo. Anche in merigiare è dunque valido il discorso che si è fatto a proposito del classicismo moderno in relazione alla lirica spesso il male di vivere ho incontrato. Che cosa intendiamo con classicismo moderno? Rispetto a Ungaretti, che sul modello delle innovazioni formali introdotte dal futurismo rinnova radicalmente il linguaggio poetico eliminando la punteggiatura, la suddivisione in versi, le strofe e le rime, Montale invece, rispetto a questa innovazione radicale, è molto conservatore. Ma la sua conservazione è all'insegna però della modernità. Perché? Perché è classico Montale? E perché è moderno? È classico perché ripropone un linguaggio consolidato da una lunghissima tradizione che parte, diciamo così, dalla letteratura medievale. Rime, versi, quartine. Ma nell'atto stesso di rispettare una convenzione, Montale ne viola la compiutezza, cioè non la rispetta fino in fondo. Come abbiamo visto, qui abbiamo nella prima parte tre quartine diversi indecasillabi legati tra loro da rime, da uno schema di rime definito. La quinta strofa invece contiene tutta una serie di anomalie ed imperfezioni. Qual è il senso di questa operazione formale? Montale fa vedere, mostra, i limiti del linguaggio tradizionale della poesia quando questa si trova a esprimere una condizione moderna, che è quella dell'uomo moderno. La condizione di disorientamento, di caos, di estrema difficoltà nel trovare nella realtà un senso che orienti, che dia un ordine, un principio attraverso il quale sia possibile, come dice Montale in non chiederci la parola, di squadrare l'animo nostro in forme. L'ordine formale, implicito nelle forme convenzionali, rime, versi, strofe, cozza inevitabilmente con il senso di spaesamento, di caos interiore proprio del poeta e dell'uomo del suo tempo. Alla base del classicismo moderno di Montale ci sono due aspetti. Da una parte la volontà di esibire, di mostrare i limiti di un linguaggio poetico tradizionale, non riesce a esprimere pienamente l'idea di disordine, di caos interiore, di difficoltà a trovare un senso che caratterizza l'uomo moderno. Primo aspetto. Secondo, Montale fa urtare intenzionalmente l'ordine formale implicito nella tradizione con il contenuto della poesia, che esprime invece un senso di disorientamento, di caos interiore, propria sia del poeta, quindi individuale e universale. Sempre dal punto di vista del significante è interessante notare come in questa poesia Montale costruisce una musicalità dissonante che costituisce una sorta di controcanto alla musicalità esibita, armoniosa e dolce, tra virgolette, della pioggia del pineto. Tutto il componimento infatti è intonato sul tono stridulo delle cicale, perché prevale una sonorità aspra e dissonante, come si evince dalla scelta di parole in cui abbiamo suoni duri e poco musicali. La S, la R, i gruppi consonantici TR, FR, CR, SH, la CH belare, talora raddoppiata, scricchi, schiocchi. Quindi Montale affida alle figure di suono, le alliterazioni, la funzione di evocare l'asprezza del paesaggio e la sua sostanziale antimusicalità. L'ultima osservazione per quel che riguarda il significante. Notiamo come nell'ultima strofa la consonanza fonica insieme alla rima in gli A conferisce al componimento, nell'ultima parte, un tratto di cantilena che esprime monotonia e tristezza. È la monotonia e la tristezza di una vita chiusa, delimitata, soffocata dalla muraglia, impedita nella sua pienezza.